Il decreto sulla spending review, dopo aver incassato la scorsa settimana il via libera dell'aula di Palazzo Madama, approda nelle commissioni affari costituzionali e bilancio della Camera. I partiti che sostengono l'esecutivo guidato da Mario Monti esprimono soddisfazione. Anna Maria Bernini ribadisce il giudizio positivo sul provvedimento che, secondo l'esponente Azzurra, si innesta sul percorso di abbattimento degli sprechi avviato dal PDL nel 2011. Soddisfatto anche il centrista Roberto Chiuto, che auspica l'apertura di una nuova fase nell'attività parlamentare, orientata alla crescita e alla riduzione della spesa pubblica. Ascoltiamo insieme i relatori del provvedimento. Senza dubbio confermiamo il giudizio positivo, poiché è un provvedimento che si innesta sul nostro percorso avviato nel 2011, con la manovra estiva e con il decreto sviluppo e soprattutto sul percorso del federalismo fiscale di identificazione di costi e fabbisogni standard. Sulle modifiche al momento non si può dire, non essendo ancora cominciata la discussione. Apprezziamo il fatto che questo sia in linea con il nostro percorso di abbattimento degli sprechi e degli eccessi della pubblica amministrazione. L'auspicio è che con la giornata di oggi cominci una nuova fase nell'attività parlamentare, anche in quella del governo, orientata alla crescita e all'ottenimento degli obiettivi di bilancio attraverso la riduzione della spesa pubblica, attraverso la riduzione degli sprechi e l'ottimizzazione dell'organizzazione e la pubblica amministrazione. È un decreto importante perché stabilisce il quadro entro il quale la pubblica amministrazione dovrà operare al fine di diminuire le proprie spese, consentendo così allo Stato di spendere meno e consentendo di raggiungere gli obiettivi di bilancio senza necessariamente aumentare le tasse.